Cari amici di Retro Commodore, buonasera. Sono qui per annunciarvi una grandiosa esclusiva. Abbiamo acquisito i diritti per la pubblicazione del nuovo libro, tradotto in italiano ovviamente, di David Pleasance e Trevor Dickinson, From Vultures to Vampires, cioè la storia del post-Commodore. Noi tutti sappiamo che Commodore fallì nell'aprile del 1994. Non sappiamo bene cosa successe dopo, cioè i mesi e gli anni successivi, con l'avvicendamento dell'acquisto del marchio, con la vendita degli asset e con la dismissione di CSG. Insomma, tutto il post-Commodore viene raccontato da grandi protagonisti della scena del pre e del post-Commodore. E quindi un'esclusiva per la traduzione in italiano e per la commercializzazione del libro, per la diffusione del libro medesimo, a mio avviso è una cosa di grande rilievo. Spero che abbia riscontro rispetto all'impegno, allo sforzo che si è già profuso e si profonderà per poi la traduzione, l'elaborazione e l'immissione al pubblico. Un caro saluto a tutti da Carlo di Retro Commodore.